Il Papa è morto, il trono è vacante. Cardinale Lawrence, sembra che la responsabilità del conclave ricada su di lei. Nessuno sano di mente vorrebbe quel trono. Gli uomini pericolosi sono quelli che lo vogliono. Questo è un conclave, Aldo, non una guerra. Sì che è una guerra! Dovresti stare attento, Thomas. Devi schierarti da una parte! Ti vedo ansioso. È tutto sotto controllo. Anche se noi suore dovremmo essere invisibili, Dio ci ha comunque dato occhi e orecchie. Non troveremo mai un candidato contro di loro che non abbia alcun tipo di macchia. Se ci fosse solo la certezza e nessun dubbio, non ci sarebbero misteri. E quindi nessun bisogno di fede. No No Grazie a tutti.